Si è celebrata la giornata mondiale del diabete anche in alto chiascio grazie all'associazione Diabetici Eugubini, ADE, che nei giorni del 12, 13 e 14 novembre ha promosso una serie di iniziative per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sulla malattia, la sua prevenzione e gestione. Nei comuni di Gupio, Guadotadino, Fossato di Vico, Scheggia, Sigilla e Costacciaro sono stati effettuati i controlli della glicemia e della pressione arteriosa. Nelle postazioni presente sempre una figura medica, due infermiere e i membri dell'associazione. Registrata una grande partecipazione delle comunità, motivo per cui ad ADE è andato il ringraziamento dei sindaci dei territori interessati per l'importante lavoro svolto. A Gupio, a conclusione della passeggiata nel centro storico, ha fatto seguito l'incontro con il sindaco Filippo Stirati e gli assessori a Palazzo Pretorio, un momento di riflessione sull'iniziativa in cui la presidente di ADE, Paola Palazzari, ha sottolineato il grande impegno profuso dall'associazione anche nei comuni della fascia e ha inoltre il riferito della collaborazione intrapresa con Alice, l'associazione alla lotta contro l'ictus cerebrale. Si tratta di un vero e proprio space sharing con le due realtà che condividono la palestra nel casale dell'ospedale di Branca, dove ADE da tempo promuove il percorso di educazione all'attività fisica per i soci. Ora, grazie ad Alice, quegli stessi spazi saranno anche utilizzati per la riabilitazione di persone colpite da ictus. Una bella sinergia, ha detto durante l'incontro il dottor David Gianandrea, vicepresidente di Alice. Con la collaborazione tra associazioni si riesce meglio a sensibilizzare non solo l'opinione pubblica ma anche la politica per far capire quali sono le esigenze del sistema. La giornata mondiale del diabete si è dunque chiusa al crepuscolo con le luci blu accese sui principali monumenti d'ecoimmuni coinvolti nell'iniziativa di ADE per accendere i riflettori sulla malattia e per testimoniare l'impegno delle comunità nella prevenzione e cura del diabete.